Buongiorno, che cos'è la Banca del Tempo? La Banca del Tempo può essere anche un canto, infatti il nostro fiore all'occhiello a Borgaro Torinese è il coro della Banca del Tempo che canta e si prepara con modalità, diciamo, consuetudinarie. Ci troviamo con una trentina di soci per poterci preparare e cantiamo, ci divertiamo per preparare il repertorio che poi andremo a presentare nelle case di riposo, perché noi riteniamo che gli anziani siano una forza importante abbiano bisogno di freschezza, di allegria, di simpatia e infatti ci aspettano, ci aspettano perché noi proponiamo un repertorio di canzoni popolari liete, che portano la gioia, li intrattengono e tant'è che essi ballano a volte sulla carrozzina anche per partecipare o cantano con noi perché si animano, si entusiasmano perché questa è la vita.